2 kg patate al sugo 80 milioni di piaci ok va bene così come sono queste patate? buonissime buone eh? mamma mia sono troppe però la patata tira la patata tira sempre peccato che questa al sugo e vediamo un po' come è 3 minuti comunque è tanto è più da 2 kg quello no no sono pronte le patate? quasi 10 minuti oh madonna mamma mia guarda come fuma è tanto no è impossibile sono pronto allora adesso dobbiamo pesare che sono pronte le patate dobbiamo pesare vedere se sono realmente 2 kg tanto che questo qua un chilo ok l'ha azzerato madonna mamma mia guarda sono tante tante eh? ce la farò? si ma vai cosa la fai? comunque erano 2 kg poi se sono asciugate qualcosa no questo sono 2 kg si asciuga oh ok ancora vai tutto proprio perfetto no troppo troppo devo qualcosa anzi porta poi magari si mangia una cucchiaia da latte 2 kg e buona tante yeah oh mio dio ti ha pure un pomodorino grazie mille ringraziamo loro sono i cuochi dal macri ragazzi ciao ragazzi benvenuti ancora un nuovissimo video di Brazo Crew e oggi finalmente come finalmente come finalmente? hai mangiato 2 kg di patata al sugo? lo so ma ancora non l'ho realizzato ho visto i papri ancora non l'ho realizzato perché l'ora è tardare lo so perché l'ho appena visto ma non ha aspettato altro ma che stiamo parlando? ma ragazzi io non ho pranzato oggi perché abbiamo raggiunto abbiamo chiesto nel nostro video di calcio nella parada challenge 80.000 like per mangiare 2 kg di patata al sugo grazie Mike e lo sai la cosa bella? è che lui lo sa di tutto bello e insusiasmo si ragazzi ci mangiamo 2 kg di patata poi a un certo punto lo vedremo e abbiamo raggiunto 108.000 like ooooh 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 comunque nati per la fiducia visto che avete messo 108.000 mettete altri 20.000 like per un prossimo video siamo da metà dai madonna ragazzi buon appetito grazie questo è il telefono per farvi capire la dimensione ma non si capirà dai video ma che cacchio vabbè per farvi capire la dimensione è un mio raga io uso a largo guarda questo è il mio braccio ti mangi questa è la mia la mia nerd è arrivato il resto questo è l'antipasto questo è l'antipasto ci sono per acquistare la milierità buon appetito buon appetito brazzo come è? due chili eh? come sono? dai al sugo buone 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 per adesso vi faccio rosicare fra poco fra poco ti viene da sboccare però devo prendere bene il respiro ma senza acqua senza acqua così no se facciamo portare un po' d'acqua però l'acqua poi gonfia tutto no dai brazzo ma che serve bere brazzo 20.36 ok qua si vede 20.36 anche l'alloro devi mangiare eh è lo smarino vuoi mangiare oh raga comunque quello è per voi questo è lo smarino ma quello là è una foglia di alloro pezzo di merda ah si quello ok pensa all'oro questo è per cogliere la sfissia quando arriva la sfissia allora lo cogli quando arriva l'esopo ma tu la vuoi smarare? secondo me è meglio ma te che schifo ora ti fai vedere in caldo un pezzo di caldo si si posso immaginare anche il piatto? si in quattro un po' di piatto ma io non la usi più adesso dai per mezz'ora ti mangi così oh vai sanrico cioè il video è di brazzo e mangio quello ma sono buone ma basta ma basta è come se stessimo aggiunto una porzione lo sai qual è il problema? no non devi parlare devi agire mangiare bene il problema è che devo respirare bene addirittura devo respirare una prova di apnea tipo Manuel Samuel esatto allora con questo ispira e con questo ispira comunque è già pieno io ho già la panza che già me scoppia dai così la vuoi rimanere ma il treni non lo fai brato è il treno della dark questo comunque è colpa di Mike regà la patata è sempre buona pensa a quante music ti fa questo video pensa se non ti fai in feed cazzo vedete che con youtube qua non è da ridere assaggiami dai assaggia una patatina ma che questo rumore ma finita no no ma caccava minca non ti assaggiamo questo buono ma Dexter Dexter ciuffo rosco molto lesso e poco patate comunque ragazzi io ringrazio Almagri che ci ha fatto sta cosa ci ha cucinato le patate no no ringrazio vedete che ditela un po' si si ringrazio adesso vabbè finora per ora siamo già brazo che aspetti fu tutto dentro comunque è un botto regà devi mangiare veloce allora secondo me secondo me è ragione stormi più ci pensi più il tuo cervello capisce la minchiata che stai facendo quindi io mangerei veloce dovremmo essere sento contento come fuci di mangiare se non interviene in acqua dovresti mangiarlo al cesso cioè dovresti ecco si fa cioè mangi il caldo esatto ma te brato sei a un quarto no a un decimo a niente hai mangiato 400 grammi scarso comunque regà te rimani dopo un po' dai tu dai 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 ditto non parlare ma stica in boia chissà quanto dormi stasera tu lo sai che c'è lui si fa caricare parla col pubblico pubblico che gli diciamo abbraccio anche su io lo so che ci fa tu lo sai che ci fa tu lo sai tu lo sai lo so tu lo sai che in te c'è uno spazio che è proprio per quelle patate lo spazio per le patate o per la patata ce l'ho sempre è sempre pensa al vero significato della parota al sugo mentre la stai mangiando però tu devi scavare per noi che è schifo c'è una montagna di patate è troppo arregata ma quando ti capitano tutte ste patate esatto quando manco dei periodi quelli buoni bravo entanto gli passiamo una fetta di pizza mangiate mangiate voi mangiate non c'è sta dai io devo mangiare tra poco quindi sono veramente troppo io sbocco sicuro se lo so guardo infatti io mi sa che salto il dito dei muri che si sa che mangiare gli scorpioni la raga non ce la farò mai oh però guarda che non sta andando male dai bravo si 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 vede in un punto del pietro si vede il fondo guarda gli sta crescendo il terzo capezzo alla forma di pene dai bravo se lo puoi fare sono qui vai brazzo vai forza aspetta parte del primo bottone regalo vai striptease per pranzo oggi oh madonna si sta andando accanto a me hai capito cosa sta andando what's going on regà ce la faremo mai dai ve lo facciamo oh già dieci minuti pensa come una patata tra cinque minuti devi finire brazzo pensa come se fossi l'acido che ti mette sul tuo stomaco dai dai squagliare queste stronze dai metti dentro dai mastica bene devi masticare bene sto sudando metti dentro devi masticare bene brazzo metti dentro manco un firma che ero così freddo ho mai sentito tutte ste cose brazzo devi mangiare però la brocchetta riempila di più cosa è questo fatti dare una pala si magari una pala è tosto non ce la farò mai col zumbo come un'oca ragazzi però però non ce la facciamo possiamo frullarle e poi ce le vediamo come ne abbiamo il foro a grado di brazzo non dite schifezze frullare sennò poi non ce la farò mai brazzo non esiste il non ce la farò dai dai guarda tosto sto a fa fatica non parlare sei quasi a metà tosto eh sto a fa fatica sei quasi a metà brazzo bravo il cuccio sei quasi a metà ma io posso ordinare dei fritti si 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 può ordinare tanto non verrà mai voglio di mangiarli è arrivata Valentina ciao ciao forse perdi il marito ciao è troppo non ce la farò mai ciao 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 sei hai chiamato i rinforzi ho mangiato queste canate vuoi tu guardare papà? no non è una cosa a conduzione familiare comunque è impossibile forse avete portato un goccetto d'acqua devo bere se no non muoio vabbè dai vabbè sono più viuse dai brazzo vatti la fare ma tu devi augurare che ti senti male che spieni muoio mentre mangio 2 kg di patate al sugo ma almeno una sfissia qualcosa 3 milioni di piccoli il sugo il sugo esatto oh eeeh sto sudando dai brazzo sei lo fai da metà comunque mangi un bel poè vai brazzo sei un chilo di patate infatti stavo dicendo la metà è un chilo di patate hai fatto l'aggiornamento per vedere quanto c'è? si si le metto a vedere poco l'ho stoppato un secondo ma vai mi faccio si faccio il bianco di però ci sono alcune patate sono rimaste un po' durette non ci riesco a mangiare quelle dure è vabbè quelle che non riusciamo a mangiare sono quelle che non riusciamo a mangiare sono quelle che non riusciamo a mangiare sono quelle che non riusciamo a mangiare raga ma tutto adesso non è Dexter ma dove cazzo vero vero guarda raga sto a ruttarmi vai vai non faccio il bene guarda sono l'animale ha detto che io rutto sempre si ah ok si vedete se ce l'ho dico io ci potete vedere lasciamo l'aggettivo non spiega ha il supporto vai il supporto supporta papà beh raga sto a fare una fatica di mane dai però se mi manca un chilo no no dai un chilo dai un chilo l'ha mangiato devi muovere brazo oh non c'ha 20 e 36 abbiamo iniziato sai prima delle 21 e 36 dovevi mangiare 54 che dura fino a che non è finito dai oh brazo arrivano i frittimisti oh i frittimisti sono morti sono morti fuori per lui davanti a brazo le hanno messi me le odi sta roba da fare questa roba lo sai che ti mangia vai vai tutti qua e noi è venuto morendo per chi ti sviare sempre sto discorso mangia ste patate e basta è il tuo unico compito questa sera muoviti guarda un'altra parte papà guarda di là un attimo ah ah brazo non si fanno queste cose ah non si dice mica sono buoni questi pass anche io invece è arrivato ah questo è arrivato dai io mangio ma che succede se non mangio tutte ma fai la pasta non succede non deve succedere ho capito perdi che ti ha dato dignità ciavaccia uuuuuh ragazzi qua mi mancherà 250 grammi si dai stai finendo raga c'è una panza io non posso uscire da qua con tu non riesci ad alzarti non lo so però c'è una panza che non riesco a sgonfiarla ma fai conto che hai assunto 2 kg di cibo ancora vado il piatto mezzo pieno che dobbiamo fare? ma quale mezzo pieno? oh oh sono quasi sono quasi riuscito oh guarda questo è tantissimo è fino a mano scusa così quasi finito quasi quasi non ce la faccio non sto sentendo in marcia è tipo sonno abbiamo già tipo sonno è colpa anche sua lui mi ha dato il permesso oggi di cucinare nella cucina di Almagri a via della Magliana grande leo e gli ho detto se non finisce questi 2 kg paga il conto a tutti eh madonna sto sentin male cacca ma davvero rega ma Dexter che fine ha fatto non mi sa su rega come gli ha fatto il botto ha detto che stava sul raccordo quando vuoi ancora non eravate le parti dai peraltro fanne 2 belle piene e butti giù 250 grammi non pensarci dai rega mi sono mangiato un chilo e 7 di patate eh eh dai 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 oddio non riesco a sgonfiare minimamente la pancia o stomaco zero proprio cioè ho un stomaco duro provate da un pugno ma senza oh non sto tostando che schifo è solo patate c'è lui che parla da tanto tempo ma lui fra poco deve registrare questo ragazzi vediamo chi ride ora si ma niente di serio eh che non parlate di scorpioni che proprio sta vomitando dalle orecchie bollito, disidratato e non fritto si ecco non parlate di scorpioni se no mi sta male forse vomito dai l'angelo c'è il bunker se vuoi ti seguire con la camera e la testa non trago dai brozzo non sto proprio vomitando davvero dai brozzo vai no perchè poi devi ricominciare da capo no poi ci sono i 2 kg iniziali più tutti i sugi gastrici ragazzi è quasi finito eh però quando la finisci dove fai? inizio per essere il bagno sono tutto sbottonato questo sbottonato si ma che sta facendo? bazzo che fai? no muo va fa poste senti un attimo un secondo però devo solo c'ho paura natti qui qua sto porre che mi sto un attimo con i conati ma a quanto è quotato lo sbocco? no devo solo camminare il secondo video dai che sbocchi c'ho un piccolo glicemico ecco un po torna a mangiare la patata i ritardatari i ritardatari i ritardatari i ritardatari i ritardatari non ci volevano far passare ho detto le parole maggi chi è brazo non lo so chi è brazo non lo so chi è viera non lo so è il tizio che si è fatto cucinare le patate passa davvero? dai che manca un cacchio dai brazo dai brazo quattro patate quattro patate per la gloria quattro patate sono possibili vai no ce l'ho muo gli esci questa me sa che è pensa patata sa cominciare a scendere le vecchie dai dai tre patate ti mancano devo mangiare piano no più però sono piano 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 comunque fai conto che sta male? adesso sta male smastica per bene allora raga prima di iniziare la sfida era brasiliano poi è diventato tipo uno che non vede il sole da svedese dai guarda quante quina sono rimaste si è diventato biondo devo mangiare piano se no sbocco riempite sotto dai dai mangia senti le patate che cominciano a riempire che ti bloccano le arterie terza ultima patata vabbè no dai coro coro brazo brazo giù 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 alla goccia alla goccia mamma mia oh ci ho messo tre ore per mangiare una patata e mangi giù 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 ma la penultima patata manca poco la penultima patata ne manca l'ultima dai l'ultima patata solo questo dai dai brazo facci sognare dai brazo facci sognare a capire del tempo tuo senza le piazze piano 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 ingoia per bene ingoia ingoia rega faccio questo sogno non ridi se ridi è peggio almeno c'è a berlino 100.000 mi piace almeno e noi rifacciamo portaci a berlino dai brazo l'ultima è l'ultima prendete il suo spazio eh la sta tagliata ma guarda la faccia ecco l'ultima è finita dai 100.000 live gole due chili dai che se li rifa se li rimangia un'altra di due chili dai dai tre chili fai l'altro in questa condizione a te tocca dell'ingogliare prima la challenge non è finita apri la bocca fai vedere che è vuota aspetta eh oee oee oh brazo non ci sboccare addosso non vi sbocco oh vai in bagno oh girati di la vai in bagno che schifo ma sta per finta palla sulla bruschetta che gli devo una smacchiatura lascia oh no pizzo di merda adesso lo fa davvero ragazzi ho più che non riesci ad ingogliare aspettate ma è ancora finita vuoi salutare vai brazo saluta tutti ragazzi aspettate devi ingogliare un attimo non è ancora finita apri la bocca adesso eccolo eccolo brazo ti puoi ringraziare ora ringraziamo 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 Mike che l'idea era stata sua stampamone chi ha messo like tutti voi che avete messo like mettete like solo quando vi pare infami eh infami è l'edificio per noi oh però aspetta aspetta rimettilo così eh guarda quel piatto che ha forme strane cioè c'è stata eh ahahah un'assonanza eh le patate un piatto a forma di patata quindi ringraziamo al macri ringrazio tutti voi che avete seguito questo video chiudi chiudi eeeh 20mila like il prossimo video 100mila ma che è 20mila eeeh 50mila minimo mettete tanto lo so che da no 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 100mila e lo fa coi piselli vai 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 2kili di piselli 2kili di piselli se non siete ancora iscritti al canale fatelo anche adesso passate anche sul canale di murri che grazie grazie per lo spam che bello che va a mangiare e poi si si poi ovviamente lui mangerà gli scorpioni io vi saluto vi ringrazio un grande grandissimo abbraccio e al prossimo video ciao ciao sto morendo